ciao a tutti i miei amici del mio canale ci chiamo adotmi halloween perché tra poco è halloween e e dovremmo dare a mentire il corzetto e il dolzetto per un momento entrammo in il dotmi se ricordi che tanto non è ricordi 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 questa volta sarà il padre dammi i soldi come vedete io ho un sacchissimo di soldi e oggi compro una casa bellissima oggi finalmente questa casa povera aspetta devo entrare non mi ricordo come si cambia mi come 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 si chiama così si cambia così ecco io voglio comprare questo cosa perché questo posso comprare anche questo ma questa è con la piscina c'è un voto alleluia ho comprato una nuova casa con voi ecco la mia nuova casa non non potete dire che bella e deve essere 100 per cento bella perché guardate la tu entri lo sapete cosa io quando prendeva ancora i soldi volevo trovare una cosa così grande con il tracco per guardare per guardare dentro se è comoda allora compravo se non era comoda non lo compravo se non era comoda non lo compravo avete capito se era comoda la compravo se non era comoda non lo compravo vabbè ho dovuto comprare questa perchè così mi è dovuto vedere perchè io aspettavo tutti questi giorni aspettavo tutti questi giorni realmente avrò una casa così bella non vedete e possiamo incominciare a entrare nella nostra casa più bella del mondo più casa bella del mondo non più bella del mondo guardate queste qua che costano un sacco e vabbè che cosa possiamo fare mi hanno dato la paghetta mi hanno dato la paghetta ehm aspetta e che cosa è lucas se ti ho altre requer cambiarsi che mi dai un'ora ma che ti posso dare ti posso dare i biscotti ti posso dare questo ma vabbè no no io so che ho sempre una truffa sempre una truffa è impossibile voi credete che ti daranno queste cose credete che ti daranno queste cose io che io non voglio andare perché perché parliamo perché non entriamo nella nostra casa più non più grande ma una casa così non so come dire come la mia casa è una casa possiamo entrare perché è un mezz'ora che sto aspettando sto aspettando aspettando aspettiamo quando si ricarica e dobbiamo cambiare la casa ecco ecco la mia casa dot me ecco ecco eccola 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 mettiamo edit queste magliette le lascio che io so che qualcuno qualcuno così le compra così le compra per gli soldi e poi queste queste le faccio ma questa ma davvero siete scherzando i coltelli devono essere nella cucina andate nella cucina scatola la butta non mi serve questo non mi serve il tavolo non mi serve il fucile da non mi serve perché non c'è infatti non c'è devo togliere tutto anche i coltelli i vestiti le lascio dove sono eccoli non capisco quando io compro una casa qui una persona non ha in tempo preso tutte le sue cose da casa non è colpa mia questa casa l'ho già comprata non puoi arrivare a dire posso prendere le mie cose no? non le puoi prendere vabbè hanno messo il ketchup nel bagno nel bagno il pane per fare i panini ma il panino con ketchup non è così buono con la maionese non è così buono questo lo devo girare così prima e mettere più al muro ecco la scatola per il momento questo non è tutto io voglio fare anche delle serie come dire il padre che sono io e un figlio che è sul mio telefono e così io sarò il padre prenderlo e questa è la piscina non vedete ma vedete adesso si vede perchè l'acqua è così perchè il padrone di questa casa non la puliva ecco che è successo quando hanno pulito la piscina ecco che succede questa camera non la tolgo la lascio per le per le mie figlie ce le avrò vedi questa cosa è bellissima che mi hanno dato due culle forse avrò due figlie ecco i vestiti per loro i fiori il specchio nell'altra stanza sarà il maschio io non dico che le vendo queste cose in realtà questa io queste cose le lascio ma poi le vendo mi guarda ora poi aspettate dove si compra le sedie le sedie questo mi servirà forse cosa per le bambine le compriere dopo posso avere una sedia ma dai ma posso avere una sedia alleluia io so che c'è un bug come si può fare che la sedia passa da qua il muro e sarà dietro però però io io ho ho solo ho 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 vedo ci vorrei ho 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 ho